In origine, diversi mesi fa, insomma parecchio tempo fa, mi è stato chiesto se volevo partecipare alla decima edizione di Torino Spiritualità e mi hanno chiesto di commentare il libro che sarebbe stato pubblicato nella tradizione italiana da Giuseppe La Terza Editori e l'argomento di quel libro era esattamente il significato di Dio e la insufficienza che abbiamo come esseri umani, tutti noi. Vi sono limiti alla nostra capacità di comprendere il mondo e vi sono dei limiti anche a quello che noi possiamo fare nel mondo. Vi sono dei limiti oltre i quali noi non possiamo estendere o spingere più in là la nostra condizione esistenziale. E l'idea di Dio è un'idea di onnipresenza ed è un'idea onnipresente nella storia degli esseri umani. Non è possibile immaginare l'umanità senza quest'idea. Noi siamo insufficienti nel senso che noi non riusciamo a comprendere questo aspetto e non riusciamo contemporaneamente ad agire in maniera appropriata nel mondo in cui viviamo. Il mondo è un mondo che si pone il problema del qualcosa invece del niente. E' un buon modo per porre questa domanda. Cerchiamo di immaginare, non soltanto capire, ma proviamo a immaginare l'eternità. L'eternità. Beh, la gente comincia a pensare all'eternità e immediatamente gli viene in mente la domanda cosa c'era prima dell'eternità? Cosa ci sarà dopo l'eternità? Domande che sono prive di senso, ma senza averle affrontate, in realtà noi non possiamo definire i problemi. E poi queste sono delle domande a cui non si può dare risposta, proprio per questo motivo. Sono necessarie. Nietzsche ha dichiarato, più di cent'anni fa, che Dio era morto. E' molto dubbiosa questa cosa, dubito che avesse ragione. Comunque uno può dire che se Dio muore, non morirà un istante prima della morte dell'umanità. La morte di Dio non può precedere la morte dell'umanità. Questa è l'idea fondamentale che voglio trasmettervi stasera con delle altre idee che sono contenute nel libro. Io ho il libro, qua ho la copia del libro, come vi ho detto, è uno dei due motivi per cui l'argomento di cui vi parlerò è un po' diverso dal titolo. Intanto il libro è disponibile. Cosa incredibile, Giuseppe la Terza in così poco tempo è riuscito a farlo tradurre, pubblicarle. Quindi se vi è interessato, se chiunque è interessato a questo libro e a in particolare alle idee che io umilmente e il professor Robire, che abbiamo estresso, può prenderlo leggendo il libro e non nella versione semplificata che io vi offrirò. Il secondo motivo per cui ho cambiato l'argomento di cui io parlerò in parte è che due o tre settimane fa io mi trovavo a una conferenza di un evento della comunità di Sant'Igidio ad Anversa e questa era una riunione interreligiosa per la pace presenziata da centinaia di rappresentanti di ogni religione. C'erano ogni tipo di cristiano, ogni tipo di musulmano, ogni tipo di buddista e ogni tipo di ebreo e tanti altri. E certo non posso adesso esaurire l'elenco, ma vi sono state dette delle parole, il motto, lo slogan di questa riunione era la pace e il futuro. E mi hanno colpito le parole di Monsignor Johan Bonni, che è il Vescovo di Anversa, che nella sua omelia, nell'inaugurare l'evento, ha detto tra altre cose, e vorrei citare, laddove un tempo l'albero della passione si trovava, adesso invece c'è l'albero della vita. Il primo frutto ed il frutto più bello di quest'albero è quello della riconciliazione e della pace. Orbene, l'evento che si è tenuto ad Anversa è stata una dimostrazione del fatto che non è un sogno. Può darsi che davvero stia succedendo questo. L'ho getto già tante volte, vi siano centinaia di persone anche non religiose lì. E diciamo, vi erano persone che arrivavano da ogni angolo della terra e da ogni credenza e credo religioso. Ed è vero, alla mattina si sono divisi. Ciascun gruppo è andato a pregare nel luogo di culto che più gli confaceva, ma il resto del giorno l'hanno passato a parlare l'uno con l'altro. Parlando di pace, sorridendo e approfondendo la conoscenza l'uno dell'altro, senza che vi fosse troppo conflitto e naturalmente senza la violenza e senza prendersi a pugni. Quindi è stato un esercizio pratico che cosa può succedere quando noi incominciamo a mangiare il frutto dell'albero della vita. L'albero della vita che ci dà i frutti della riconciliazione della pace. Ma l'altro aspetto è che molte persone non vogliono provare questo frutto. E anche questo è una domanda a cui bisogna dare una risposta. Quindi, da un canto abbiamo questa possibilità, ma ci sono delle difficoltà ad attuarle. Ed è di questo che io, questa sera, cercherò di parlarvi. E' nel titolo, nel sottotitolo direi di Sottorino Spiritualità, cinque giorni di incontri, dialogo, lezioni e letture. Beh, lasciamo perdere le lezioni e letture, ma puntiamo sul dialogo. Il dialogo è la chiave, è il problema chiave, è la soluzione chiave di cui vorrei occuparmi. Il dialogo, vediamo da dove viene questo nome, per un certo numero di motivi, è una delle arti più complesse, è la più difficile da mettere in pratica, ma è anche la più urgente, la più necessaria, e in particolare nella situazione attuale. Nel corso della mia presentazione vorrei sviluppare questo concetto. Quello che spesso viene definito dialogo, invece, sono una serie di monologhi. Per esempio, casi in cui i partecipanti non si parlano l'un l'altro, ma parlano sopra l'un l'altro. E lo scopo, in questo caso, non è quello di comprendere l'altro o di comprendersi a vicenda, ma è quello di vincere, di non essere sconfitti. Io sarò quindi felice della mia vittoria, di dimostrarmi meglio degli altri, mentre lo scopo, al contrario, è quello che tutti dovrebbero uscire arricchiti da un diario, aggiungendo alla propria esperienza quella di altri. Un'esperienza non è mia, un'esperienza è qualcosa che mi è successo, è qualcosa magari che io non ho visto. scambio quella mia con quella degli altri e io arricchisco quella che è l'attrezzatura che io ho per poter affrontare la vita. Quello che è successo negli ultimi mesi è che affermazioni ripetute di Jorge Maria Bergoglio, dopo che è diventato Papa Francesco sono andate in questa direzione. Pure voi avrete notato, ed è interessante, che la prima intervista che ha dato alla stampa, che Papa Francesco ha dato, è un'intervista che ha dato a Eugenio Scalfari. Eugenio Scalfari, sapete, è un ateo e tale si dichiara. Ora, questa è una cosa molto interessante, è un segnale molto potente, qualcosa che ci è stato dato. Che cosa vuol dire questo messaggio? Vuol dire che un vero dialogo significa disponibilità a conversare con un avversario, non soltanto con quelli che già concordano, che già hanno le stesse opinioni, ma è l'arte di conversare con coloro che hanno delle idee che magari odiate. Non è la prima volta che Bergoglio fa una cosa del genere, perché già nel 1991 ha pubblicato un saggio molto importante, in cui ha definito come pseudo-dialogo quello che ho descritto prima, e ha detto che è un segno di corruzione, e che la corruzione è come un peccato, e che è perdonabile in linea di principio, ma è imperdonabile quest'ultimo, cioè il non avere il vero dialogo. Invece che essere perdonata, la corruzione deve essere trattata, perché è una malattia, è una malattia che sta mangiando l'umanità, e se non facciamo qualcosa ci minaccerà a fondo. Il segno, la caratteristica di un individuo corrotto, secondo Papa Francesco, è che tale individuo è mal disposto verso qualunque critica. è una persona che scredita coloro che lo criticano, e cerca di assumere l'autorità morale tale da non permettere la messa in discussione della sua condotta, scredita coloro che pensano diversamente. Gli individui corrotti hanno anche un metodo di persecuzione, spesso impongono col terrore le loro idee, e si vendicano rimuovendo quegli individui dalla vita sociale. I corrotti, sempre secondo Papa Francesco, non conoscono fratellanza, non conoscono amicizia, conoscono solo la collaborazione, o sei con me, o sei contro di me. Non vi è nulla tra queste due affermazioni. Le categorie che una persona corrotta, sempre secondo Papa Francesco, che una persona corrotta usa per condividere la sua esperienza col mondo, sono quanto segue collaborazione e tutti gli altri. Tutto il resto è nemico. Una persona corrotta è il maggior pericolo che in passato abbiamo dovuto affrontare, e nella nostra epoca è lo stesso, perché la nostra epoca è caratterizzata da processi di globalizzazione e da processi di diasporizzazione. Noi viviamo in un mondo diasporico e prima o poi dovremmo fare i conti con questo, capire che cosa ne segue. In una grossa città che si chiama Londra, che come sapete è la capitale della Gran Bretagna, ci sono 70 diverse diaspore che vivono magari in un unico quartiere, che vivono l'una accanto all'altra. gente che viene da culture diverse, da diverse lingue, persone che sono cariche di memorie diverse, che percepiscono quindi il mondo diversamente e che si comportano in questo mondo in maniera diversa l'una dall'altra. Ma queste persone coabitano, coesistono, si scambiano le cose, interagiscono, condividono dei lavori, lavorano magari nello stesso posto di lavoro, magari i loro figli vanno alle stesse scuole, condividono la vicinanza, l'essere vicini e lo fanno cercando di raggiungere due obiettivi che apparentemente sono irriconciliabili. D'un canto non vogliono negare agli altri il diritto di autoaffermarsi, il diritto di avere la propria identità, il diritto della libera scelta di come si vive. D'altro canto non vogliono arrendersi, non vogliono abbandonare la propria identità, non capiscono perché dovrebbero abbandonare la propria identità e quindi questo vuol dire identità da ambe due i lati. Questo ci spiega un qualcosa sulle condizioni, quello che ho già detto prima, cioè che in queste condizioni dobbiamo sviluppare l'arte del dialogo, l'arte del vivere in pace, l'arte del vivere e l'avere un dialogo continuo è la cosa più difficile, ma contemporaneamente la cosa più importante e più urgente per tutta l'umanità. Cos'è il contrario del dialogo? Il contrario del dialogo è il sospetto reciproco e l'odio reciproco. Sfortunatamente non posso tradurlo esattamente dal polacco, ma il filosofo Barbara Skarga, utilizzando la versione polacca della parola odio, odiare, ci dimostra che in origine l'idea dell'odio voleva dire rifiutare di parlare, voleva dire rifiuto di riconoscere la presenza dell'altro, il rifiuto di aprire gli occhi, di aprire le orecchie, di guardare questa persona ed ascoltare ciò che avevano da dire. Io non posso utilizzare, io non sono capace a tradurre come sta traducendo, ma la parola che dice io odio in polacco è niena widan e niena widan semplicemente vuol dire io non voglio vedere. L'opposto del dialogo è la tendenza a separarsi, di tenersi in un luogo diverso, di stare in un luogo diverso. Le manifestazioni attuali di questo possono essere, per esempio, le comunità chiuse, quelle che si chiamano le gated communities, cioè quei gruppi di casi chiuse da un muro, non so se ne avete perché sono molto diffuse in altri paesi. Questo vuol dire che sono delle comunità che sono difese da sistemi di controlli, guardie, televisione a circuito chiuso in modo tale da separarsi da quella che è la gentaglia che vive, che è piena di vita, ma che è anche piena di pericoli che noi non riusciamo neanche a nominare se viviamo in una gated community. Poi ci sono delle altre possibilità, per esempio, ci sono le versioni elettroniche di queste, tra i giovani, potete parlarne con loro, se non mi credete a me, se non mi credete potete chiedere a loro. C'è una zona che io chiamerei the comfort zone, una zona di conforto, diversamente dalla strada o dal luogo di lavoro o dal quartiere, quando siete in linea potete costruirvi una zona sicura. Questo vuol dire che le persone che pensano diversamente le eliminate dal vostro orizzonte. Io lo definisco una echo chamber, cioè una camera in cui c'è un eco, in uno spazio in cui l'unico suono in cui sentite è l'eco della propria voce, persone che ripetono esattamente quello che dite voi, che confermano i vostri punti di vista. Lo potremmo anche chiamare una sala degli specchi, perché vedete soltanto riflessioni del vostro volto, il vostro volto che si riflette in voi. Signori e signori, è una situazione nuova. Perché la situazione è nuova? Negli ultimi 400 anni noi viviamo in una situazione diversa, quello che io sto descrivendo, la vicinanza, la prossimità con cui noi viviamo e la credenza ostinata nella differenza è una cosa completamente nuova. È incominciato, se vi ricordate, se vi ricordate quello che avete imparato a scuola, c'erano delle guerre di religioni in Europa, c'era la riforma, la controriforma, eccetera, questo continente è stato devastato, vi sono state delle parti d'Europa all'epoca che hanno perso fino a metà della popolazione a causa di queste guerre, a causa delle passioni che si sono scatenate, hanno lottato per anni e i governanti dell'Europa erano desperati, stavano cercando un modo per far cessare questi massacri, era un macello e volevano bloccare questa situazione, allora hanno organizzato una conferenza nel 1555 in una città ad Asbruck e hanno sviluppato una formula che cosa fare, che cosa fare per impedire che la gente continuasse ad ammazzarsi, la formula era cuius regio eius religio, ripeto, cuius regio eius religio, che vuol dire che chiunque governasse in quel posto, re, principe, chiunque fosse, ha il diritto di decidere in che dio i propri cittadini o soggetti dovevano credere, questo era possibile all'epoca perché si aveva un'idea di sovranità territoriale e che ogni dinastia possedeva una zona e che questa zona aveva la sovranità, quindi si sapeva che se qualcuno viveva da questo lato della frontiera probabilmente era un riformato, mentre chi viveva dall'altra parte del confine sarebbe stato per esempio della controriforma, molto semplice, le soluzioni territoriali ad un disaccordo profondo tra la gente. Ma ci sono voluti circa cento anni di guerre di religione e di massacri fratricidi e nel 1648 dopo una serie di altre guerre di corpi che coprivano la terra ancora una volta i rappresentanti delle diverse dinastie si sono incontrati questa volta a Münster e Hofnabruck e altre città tedesche e hanno riconfermato l'idea cioè l'hanno trasformata in un principio che è servito per l'organizzazione futuro del mondo la sovranità territoriale vuol dire il diritto del sovrano di decidere in che dio i suoi soggetti dovevano credere come dovevano vivere quali dovevano essere i loro valori bene questa soluzione al disaccordo umano fortunatamente o sfortunatamente questo dipende dal vostro punto di vista non funziona più noi viviamo ripeto ancora una volta in un mondo delle diaspore Hickett Nunc qui ed ora è un mondo sempre più congestionato sempre più affollato in cui cattolici luterani ortodossi metodisti battodisti moschee sinagogue o i testimoni di Geova si sgomitano perché vogliono spazio nella stessa strada in un mondo come questo signore e signore l'ignorarsi l'un l'altro sta diventando sempre meno possibile la probabilità di conflitto quindi cresce esponenzialmente e senza controllo ma cresce anche il bisogno di avere una comunicazione reciproca e profonda e io vi suggerisco che l'idea dell'amore dell'amicizia di comprendersi anche l'idea della solidarietà unendosi trarre un vantaggio dalle differenze con le persone giuste differenze che sarebbero altrimenti foriere di conflitti sanguinosi noi e ripeto quello che ho già detto prima noi siamo anche delle persone che vivono in un'epoca di globalizzazione direi che non bisogna parlare tanto della globalizzazione ma di di localizzazione che è un misto della globalizzazione e dell'essere locali sono i due lati di questo contrasto e sono due tendenze opposte nella nostra vita attuale vi sono dei tentativi per andare al di là dell'impatto dell'altro da sé vi sono delle tensioni tra i due aspetti della nostra vita tra la globalità ma nel compenso anche tra il bisogno la fame di trovare una casa di essere chesua cioè di essere in un posto che deve mantenere le caratteristiche che ci appartengono senza permettere ad altri di interferire nonostante beh la localizzazione signori e signori potrebbe essere confronta simile a un matrimonio molto spesso succede una coppia sposata che litigano si le coppie litigano hanno due storie diverse che devono essere rinegoziata quando si incontrano per la prima volta ciascuno porta il fardello del proprio passato le proprie memorie le proprie amici le proprie abitudini e va tutto rinegoziato ritrattato è un sistema di trattativa e quando poi affrontano insieme il destino le loro reazioni sono diverse vivono un mondo diverso ma se il divorzio non è né una soluzione realistica né desiderabile allora devono trattare per trovare un modus convivendi e trovare una soluzione devono trovare non una soluzione ideale probabilmente non è che possono raggiungere i loro desideri più nascosti ma possono trovare una convivenza accettabile perché qualunque sia l'argomento del conflitto c'è ancora il desiderio e il bisogno di stare insieme e questo prevale e com'è che funziona tutto questo in pratica il mondo direi ha una si vede in maniera diversa quando lo si guarda dall'alto se lo guardiamo dall'alto dalle nuvole lontani dalla vita quotidiana a quel punto potete vedere e questo lo pensano anche i pensatori come Huntington per esempio lo vedono come uno scontro di civiltà e ci dicono che c'è un conflitto così profondo così fondamentale che non vi è modo di riconciliare le parti non vi è modo che una parte riesca ad accettare la fede e la pratica dell'altra e l'unica soluzione è lo scontro beh nessuno sa che tipo di scontro ma comunque uno scontro tipo guerra per intenderci sanguinario questo è una un punto di vista sul mondo l'altro punto di vista è quello che abbiamo qua noi in basso quando uscirete da questo bellissimo teatro andate per strada e vedrete delle persone che camminano vedrete persone di ogni colore di pelle persone che arrivano da diversi posti che parlano lingue diverse che e così via con tantissime diversità vi era un grande scrittore del centro Europa che vorrei ricordare e Joseph Roth che ha detto quanto segue le persone in contrasto piacevole ai politici non vivono di politica la gente vive della terra della terra che ara del commercio dell'artigianato che hanno imparato dopo che hanno letto i giornali che hanno ascoltato i discorsi dopo che hanno letto i loro rappresentanti e hanno discusso con gli amici le notizie i buoni contadini i commercianti e anche i lavoratori delle città tornano nelle loro case e tornano nei loro luoghi di lavoro questo gli dà un'altra prospettiva il problema è quale sia il rapporto tra Dio e l'uomo in questa condizione diasporica diffusa e qual è la prospettiva che abbiamo per rispondere a ciò che diceva Anversa la pace è il futuro le diverse religioni oggigiorno entrano in contatto l'una con l'altra musulmani ebrei cristiani giocano nello stesso luogo con i molti milioni di credenti che sono sparsi in terra lontana loro Dio si è diffuso in tutto il mondo Dio signore e signori è anche diasporico Dio non è soltanto in un luogo chiuso è diffuso come i credenti in tutto il mondo i signori del mondo adesso devono imparare a vivere l'uno con l'altro Dio di uno deve imparare a vivere con l'altro la forza esplosiva di questa simultaneità geografica data dalla prossimità e la distanza sociale sta diventando solo adesso tangibile nei momenti in cui le persone cercano di isolarsi l'uno dall'altro e non ci riescono la globalizzazione e la diasporizzazione sembrano essere dei processi irreversibili non vi è ritorno non è possibile ritornare all'isolamento territoriale a meno che voi non abbiate la sfortuna di vivere nella Corea del Nord ma a meno che voi non abbiate questa sfortuna l'isolamento dal resto del mondo è qualcosa che non esiste e noi tutti siamo qua a Torino a Roma a Milano in altre grandi città in tutto il mondo non soltanto in Europa noi funzioniamo come pattumiera dei problemi che sono creati globalmente problemi che sono al di là del nostro controllo nessuno può risolvere questo problema per quanto potente perché sono delle forze globali che hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana sulle possibilità di vita per i nostri figli o per i nostri nipoti o ancora per i pronipoti che devono nascere di nuovo questo è un processo irreversibile tutti stiamo vivendo in uno stato di interdipendenza quello che succede in un punto del globo ha un effetto tremendo imprevedibile in un'altra parte e retrospettivamente noi e solo retrospettivamente noi riusciamo a capire che tipo di impatto è stato quindi noi quello che stiamo sperimentando qua è l'immescolamento e l'antigonismo tra le religioni del mondo ma questo è solo uno degli aspetti di questa specie di condizione diasporica e globalizzata l'unico dio l'unico dell'altro non è più altrove il dio dell'altro non è dall'altra parte del confine in un luogo irraggiungibile è qua vicino a noi all'interno del nostro ambito io vi consiglio un bellissimo libro spero che sia stato tradotto in italiano del sociologo tedesco Uri Beck che è il dio personale le principali religioni del mondo sono signore e signore tutte religioni monoteiste ciascuna accetta o sostiene il fatto che vi sia un unico dio ma tutte sono mescolate in uno spazio molto limitato oggigiorno sono i nostri vicini di casa sono quelli che vanno a scuola con i figli sono quelli che lavorano con noi sono quelli passanti per strada ed essendo questa la situazione il contatto è inevitabile la separazione non è più vera non è più un'opzione qual è la via d'uscita dove andiamo da qui beh non ho una ricetta né dico di sapere di avere una risposta a questa domanda che è una delle più importanti del nostro tempo ma preferirei ascoltare molto attentamente Papa Francesco che suggerisce che il modo di agire in queste situazioni è di aprirsi al dialogo di accettare che in paradiso c'è una tregua ma qua sulla terra ci sono molte verità che coincidono e se nel paradiso la verità è una dobbiamo accettare che sulla terra le verità sono tante e che le verità sono il punto di inizio non il punto d'arrivo e che questo è uno dei modi perché per permetterci di emergerci emergere da questa situazione vivi il dialogo è una questione di vita di morte o ci capiamo o riusciamo a dialogare tra di noi oppure toccheremo il fondo insieme un altro studioso pollacco è Karol Modolevski che ha scritto una storia dell'Europa barbarica l'Europa che ha preceduto la cristianizzazione l'Europa dell'alto medioevo ciò che ha visto è che nell'incontrare i missionari ciò che ha riempito di paura ai barbari non era un dio strano quanto le altre richieste del monoteismo cioè e qui cito il fatto i pagani erano disponibili sottolineo disponibili di aggiungere Cristo al loro panteon non mettevano in discussione la sua esistenza o il suo potere il battesimo di per sé non le terrorizzava ciò che li terrorizzava era qualcosa di diverso ciò che li terrorizzava era che l'accettazione della nuova fede fosse accompagnata dalla distruzione dei loro vecchi culti non sto suggerendo qua qualcosa in particolare ma vorrei ricordarvi che l'impero che ha avuto più successo al mondo è stato quello romano più di 600 anni abbastanza tempo nessun altro impero nella storia umana ha durato di più perché ha avuto così tanto successo l'impero romano gli storici litigano tra di loro ciascuno aggiunge un motivo una causa un'altra ma ma vi è un appunto su cui la maggior parte è d'accordo ovvero che la disponibilità degli imperatori romani e dei romani in quanto tale di accettare gli dei dei territori conquistati e di mettere aggiungere le loro immagini nel pantheon a Roma ha giocato un ruolo molto importante i territori conquistati da Roma invece di sentirsi come una colonia sconfitta si sentivano elevati promossi diventavano cittadini dell'impero romano i loro dei erano diventavano dei vicini a quelli dell'impero romano così potente forse non sto suggerendo che necessariamente dobbiamo emulare questo esperimento ne penso che dobbiamo costruire un tempio che contenga in maniera sincretica tutti gli dei del mondo ma quello che dico è che l'accettazione della differenza la tolleranza verso la differenza e la disponibilità alla collaborazione solidale è la ricetta che dobbiamo seguire è l'unico modo che ci può permettere di arrivare a una coesistenza pacifica vi suggerisco anche e vorrei chiudere la mia presentazione con questo che le grandi religioni del mondo che hanno giocato un ruolo molto misto nel confronto della pace erano il risultato di molte guerre di crudeltà e soprattutto sono stati strumenti di separazione di divisione di divisione dell'umanità che è stata divisa in noi e loro i buoni i cattivi le stesse religioni semplicemente perché hanno la stessa immagine di Dio e poiché si hanno riferimento a Dio e poiché ripongono in Dio il bisogno di propria impotenza perché Dio può rispondere a così tante domande della propria vita queste possono diventare però anche uno strumento o lo strumento per promuovere la pace nei nostri giorni io penso questo sia il messaggio che anche Papa Francesco ci dà e probabilmente penso che questo sia la cifra del suo ruolo di quello che lui pensa che la regione debba fare vi lascio con queste parole vi lascio con quello che ho iniziato pensate all'arte del dialogo pensate come sia importante interagire scambiare con persone diverse da voi siate aperti avete una mentalità aperta credendo che forse voi potete essere un buono insegnante perché la nostra esperienza europea è molto ricca e l'Europa da molti punti di vista è all'avanguardia nel risolvere i problemi universali umani quindi come insegnante dovete avvicinarsi ma dovete essere anche discepoli perché voi sapete che ambedue le parti sono insegnanti e discenti e tutti e due possiamo uscire dal dialogo arricchiti arricchiti per il benessere di tutta l'umanità grazie grazie grazie